Musica Ben ritornati cari telespettatori, anche questa sera avremo diverse interviste di approfondimento su temi di attualità e di grande importanza, significativi, quindi vi invito a seguirci. Come sempre però incominciamo con lo spazio dedicato alle pensioni, quindi parleremo di varie tipologie di pensioni agli anziani con lo SPI CGL, poi ritorniamo ancora insieme tra poco.